Poste Italiane con il responsabile della filiale di Salerno dell'area territoriale sud Basilio Mancuso ha comunicato al comune di Battipaglia la rimodulazione delle aperture estive giornaliere ed orari degli uffici postali presenti sul territorio comunale. Il tutto entrerà in vigore dalla metà di luglio, ma ecco nel dettaglio l'intervento di rimodulazione che partirà dal 13 luglio al 27 agosto del 2018. Per quanto concerne l'ufficio postale Battipaglia 1, giorni di chiusura lunedì 16 e lunedì 23 luglio, sabato 11 agosto, sabato 18 agosto, lunedì 27 agosto. Per l'ufficio postale Belvedere, giorni di chiusura sabato 14 luglio, sabato 21 luglio, sabato 28 luglio, sabato 11 agosto, sabato 18 agosto, sabato 25 agosto. Infine, per l'ufficio postale Santa Lucia, giorni di chiusura venerdì 13 luglio, sabato 14 luglio, venerdì 20 luglio, sabato 21 luglio, venerdì 27 luglio, sabato 28 luglio, lunedì 13 agosto, martedì 14 agosto, venerdì 24 agosto, sabato 25 agosto. Grazie per la visione di chiusura lunedì 16 agosto.